È un errore. Il ministro delle finanze ellenico, Yanis Varoufakis, lo ribadisce senza mezzi termini. La decisione dell'Eurogruppo è dannosa. Aver respinto la richiesta di Atene di estendere il programma di aiuti per alcune settimane, in modo da consentire alla Grecia di tenere il referendum sulle proposte dei creditori, per Varoufakis danneggia la credibilità dell'Eurogruppo e il danno potrebbe essere permanente. Non c'è alcun motivo. Per cambiare idea sul referendum, ha risposto Varoufakis, noi agiamo in nome dei greci. Se i greci ci diranno di firmare, firmeremo qualunque cosa ci venga richiesto. Ci prepareremo il giorno immediatamente successivo a raggiungere un accordo rapido con i nostri creditori, i nostri partner e le istituzioni, nello spirito del verdetto del popolo. Ci dispiace, ma martedì sarà l'ultima data possibile, ha ribadito il presidente dell'Eurogruppo. Nella notte scadrà il programma di aiuti. Siamo determinati a mantenere la credibilità e la stabilità dell'Eurozona. Il governo greco ha rifiutato le proposte dell'Eurogruppo che hanno fatto uso di tutta la flessibilità possibile. Il processo non è concluso. La Grecia l'ha interrotto e sta sottoponendo l'ipotesi del referendum al popolo greco con un'opinione negativa, cosa che noi consideriamo scorretta. Dopo il fallimento delle discussioni nel pomeriggio di sabato, i ministri delle finanze dell'Eurogruppo hanno detto di non volere che la Grecia lasci la zona euro. Il ministro francese dell'economia ha detto che la Francia è pronta in qualsiasi momento a riprendere i colloqui con Atene, come conferma la corrispondente di Euronews a Bruxelles. L'incontro dell'Eurogruppo ha portato alla rottura, dice. Il ministro Varoufakis ha lasciato il tavolo dei lavori dopo la bocciatura della proroga. Se la Grecia non rispetterà il programma, ribadisce l'Eurogruppo, il sostegno finanziario dell'Europa si potrebbe fermare. Per il gruppo, il istige un'amphibolo. Apo' le Vruxelles, per la Euro News, F. Kuccio Kosta.